Ok, da questa parte abbiamo il portale del paradiso, mentre da quest'altra parte abbiamo il portale dell'inferno Quale scelgo? Sera, ma che cavolo fai? Sera, è ovvio, scusa, andiamo all'inferno No Ma è anche scontato, dove va andare? Il paradiso è per i perdenti, Sera, è per quelli senza coraggio Mentre invece l'inferno è per le persone fortissime come me Io non la vedo in questo modo Io sì, quindi decido io No Perché no? Allora Allora? Allora Allora Calmiamoci tutti No, non ci calmiamo Ascolta un attimino Facciamo un ragionamento semplice e veloce Ok Se facciamo prima una buona azione e poi una cattivazione Quanto meno siamo perdonabili Se invece partiamo da fare cose bruttissime No, è meglio fare le cose brutte perché poi ti fai perdonare facendo le cose buone Perché la gente poi se ne va perché dice guarda quanto sono cattivi E infatti è quello che voglio Che c'è da ridere? Andiamo in paradiso No dai, stai che noi, allora ho voglia Porta Vai da solo Tanto poi andremo anche lì Ok Quindi poi ti diverti Quindi allora facciamo velocissimi in paradiso e poi andiamo subito all'inferno Facciamo quello che dobbiamo fare in paradiso e poi andiamo all'inferno Vai, muoviti Muoviti Andiamo, forza Brava, brava Andiamo, andiamo, andiamo Eccoci qui Siamo arrivati E come pensavo il paradiso è bellissimo Altro che l'inferno Carino Nel fuoco, le fiamme Non c'è nulla di bello in quelle cose Fede Sai qual è la cosa più bella? Sì Darti fuoco Wow Quello è bellissimo Grazie Quello è bellissimo Allora Fede, cerchiamo quello che dobbiamo cercare che non so in realtà che cos'è Che cos'è, non lo so Quindi andiamo in giro e cerchiamo qualcosa Credo che quello sia un angelo Sta fluttuando E beh, certo che è un angelo Però guarda che carino, Steph Sì Sei molto carino Complimenti È casa sua questa, secondo te? E beh, penso di sì, Fede Non entra neanche le cose No, no, aspetta, voglio sbirciare Vieni qui Ok, ma non si entra nelle case degli angeli Ma non sto entrando Sto guardando dalla porta È interessante, Fede Eh sì È una casa normale No, vedi che ha tutte cose che sbrilluccicano È una bella casa Eh sì Si tengono bene gli angeli È una bella villetta Mi sta bene È una bella villetta Allora, io provo a parlarci Vediamo se si offende Se parla la nostra lingua Salve Oh, cavolo, no Fede, non c'ho voglia È lunghiera scritta È un papiro Ma no Fede, leggi tu No, come leggo io Sì, sì, sì Ti lascio il compito Cos'è un po' prolisso Voglio di parlare tanto Eh sì, sì, sì Vai, vai, diventi Allora, salve giovani creature Mi chiamo Gerald Angel Eh, che bel nome però Bello E oggi sono qua per chiedervi aiuto Vedi, Steph Che c'è sempre roba da fare Ma hai trotto di andare subito Quello è sempre così a priori Ovunque andiamo, guarda Allora, dietro di me Come potete ben vedere C'è una porta che conduce Ad una delle nostri fonti di energia Più potenti Ok Bello La chiave è stata nascosta All'interno di una grotta Per evitare che dei malintenzionati Possano metterci le mani sopra Ti può fare Ok Appunto Vabbè, io non sono malintenzionato però Purtroppo un demone è uscito dagli inferi Alcuni angeli si sono sacrificati Per poterlo sigillare Ma ormai è trascorso tanto tempo Il sigillo è quasi distrutto Ok Abbiamo bisogno che voi Muniti della nostra energia Sconfiggiate il demone Così da poterlo eliminare Una volta per tutte E liberare questa terra santa Ok Dov'è la mappa per trovare la chiave? Non avete bisogno della mappa Saprete trovare la strada da soli Puntini puntini E quindi siamo pronti al combattimento? Grazie Ok Ma dobbiamo dire che troviamo la strada da soli Scusami Tu hai idea di dove sia la grotta? Ma assolutamente no Tu sai dove è la grotta? No Allora Non avete bisogno della mappa Fere? Era un pulmine? Ok Eh sì Però aspetta Steph Eh? Eh dobbiamo entrare nella fonte di energia Sennò come andiamo? Dici? Eh secondo me sì No è chiusa Fere Questa è quella che dobbiamo aprire con la chiave Ah è vero Hai ragione Mi sono persa nel discorso Ha parlato troppo Ma forse dobbiamo andare verso i fulmini e fare qualcosa del genere Dici? Eh tipo mi sembra che i fulmini siano Verso questa parte Ma che ansia Aiuto Sta diventando un posto terribile Allora aspetta Perché fa così paura? Dico io Il paradiso dovrebbe essere tutto bello e carino Aspetta aspetta Ok Da quella parte ne ho visto uno Steph Corri corri Ma da questa sì? Sì 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 Dritto di fronte a te Perché io sono andando in base a dove sento No no è lì l'ho visto Ma questa è la grotta Sì Cuglie Ah ecco perché quindi non abbiamo bisogno Della mappa Perché qualcuno ha dei poteri celestiali E ci fa vedere direttamente dov'è Eh sì Penso che mi abbia preso un fulmine in testa Non ne sono sicura ma è provato Il problema è che cade un fulmine qua Ogni tot Quindi devo sbrigarmi Come si Oh mio dio Oh mio dio Io non scendo ti guardo all'alto Aspetta paura che cade un fulmine qua Aiuto Sto qua sotto un attimino eh No è tutto a posto È tutto a posto Sì sarebbe già arrivato Ok Evidentemente era quel cristallo Che attirava i fulmine Accidenti scusa Steph No è tutto a posto È tutto a posto Sì sarebbe già arrivato Questo secondo me te l'ha fatto qualcuno a posta eh Qualcuno Steph Ti sto guardando malissimo Ok Te l'hanno fatto chiaramente a posta Ti sto fulminando con gli occhi Fere Che simpaticone E poi si dice Con lo sguardo Non sai neanche dire le cose Parla quella che non sa leggere Allora Ma che vuoi Tu lo sai leggere Come si torna a casa? È dall'altra parte Steph Siamo arrivati da lì Sicura? Sì Siamo arrivati da questa parte Ho perso l'orientamento Dopo aver preso un fulmine in testa Per colpa di qualcuno Che mi dà il consiglio sbagliato Allora Siamo arrivati da questa parte Secondo me Oltre questa collinetta Dovremmo ritrovare la casetta Il problema è che Ferri e fulmine L'ha presa la nascita E non si sta mai a orientare No Guarda la casa Ho ragione io La vedi che sta lì la villetta? Sì Fallitones Ok Va bene Quindi non prendermi in giro Perché il fulmine L'hai preso solo tu Beh perché chissà come mai Ti sei nascosta Come una fifona Però poi vuole andare all'inferno Capito? Eh perché lì mi sento più a mio agio Qui non lo so C'erano questi fulmine Un po' me l'ho fatto paura Allora Quindi dovrei mettere La chiave tipo qua così Stavo andando in casa sua Effettivamente dobbiamo andare qua Em Hai buttato la chiave Ah si apre adesso Aspetta Aspetta Non avevo funzionato Mi sa Aspetta Ora ci siamo chiusi entrambi Perché forse dovevi buttare la chiave qui Io ho buttato nel tappetto Aveva senso però Ci siamo chiusi dentro Angelo ci puoi aiutare? Ferre non ci aiuta Prova a rompere un blocco Allora vado io Rompo tusso Vado Ma che cavolo è? Steph fa paura Aiuto Allora si sta bene Si sta bene Ok Apri tu che se esplode Vai Spada divina No no c'è roba interessante Come spada divina Sì sì Spada divina Penso che dobbiamo combattere Ferre Prendi un po' di mele Sì le prendo tutte Perfetto Prese tutte Eccoci qui abbiamo preso l'arma Allora Siamo pronti al combattimento Siete sicuri di essere ovviamente pronti? Perfetto Che la fortuna sia con voi No io in realtà l'ho detto Ma non ne sono tanto sicuro Mangio delle mele d'oro Famme Io le sto mangiando tutte Sto morendo di fame Porca miseria Non mi danno mai cibo Divertiti Addio Cosa vuol dire divertiti? Io mi nascondo Come ti nascondi? Sì 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 Allora Steph Io dico abbiamo tutto Abbiamo le armi Ok Stavo per dire Chi dobbiamo combattere Mi è comparsa la scritta Demone Allora Ma che cavolo è quel coso? Dov'è? Dov'è? Oh mio Dio è bruttissimo Ma è comparsa proprio qui Ma che cavolo di spada abbiamo? Ma sei bruttissimo Avevano fatto bene a rinchiuderti Porca miseria Bene Troveremo questa all'inferno È ovvio Ma poi con che tempismo Accidenti Si è rotto il sigillo Ma dico io Proprio quando siamo arrivati qui Accidenti Picchia Steph è fortissimo eh E sto picchiando Che vuoi? Mangia mele d'oro e picchia Devo mangiare Steff Mi sta facendo furi? Che male Allora Mangiare mele d'oro Aspetta una tiro Almeno di metà vita Forza Ok Arrivo Ehi brava Mamma mia Sta a fare un casino Questo qua è potentissimo Arrivo Con calma eh Ce l'abbiamo quasi fatta Ok Mi fa malissimo Oltre che con calma Aspetta che mangiare mele d'oro Lo sto distruggendo Eccomi Voglio dare l'ultimo colpo Perché lì devo sempre sconfiggere io 17 mele d'oro Ho dato io il colpo finale No L'ho sconfitto io però Mamma mia Steff È stato complicatissimo Ce l'abbiamo fatta Ok Guarda ho fatto male a scegliere il paradiso rispetto all'inferno Cosa stai dicendo? No che sono arrabbiatissimo Ma io vado in paradiso per restare sulle nuvole Dormire Avere un sacco di cose belle Ma lo sai che ci sono sempre missioni da fare Steff Invece sono cose brutte Torniamo indietro Andiamocene Ma accidenti ma non ho più l'arma Ma abbiamo perso tutto Niente le mele d'oro Steff E vabbè però è giusto Eravamo in paradiso Sì ma almeno un premio per averli aiutati Ma è che ti puoi portare le cose Io vado all'inferno Ciao Io avrei voluto la spada Accidenti Oh no È bruttissimo È tutto rosso Esattamente come mi aspettavo Sì ma è veramente triste e brutto Accidenti Ma cos'è poi sta roba? Sono alberi dell'inferno Steff Ma guarda Niente che posso prendere Anzi mi ha dato delle foglie Dell'inferno Ma tenetevele Sono alberi infernali Che vuoi? Che postaccio Non so dove dobbiamo andare Iniziamo a girare in tondo Esatto Prima o poi troveremo qualcosa Cammina Cammina Ma che cavolo sto vedendo È inquietante sta cosa Buongiorno Sì Sì Arrivederci Andiamo prima a esplorare la casa Steff Sì Fa un po' paura Oh che bella casa Complimenti No no aspetta Steff Qui non sono gentili Non entrare Già non siamo entrati in quella dell'angelo Sbircio solo da fuori Da fuori Da fuori Ma c'era un forziere E quindi dalla finestra posso entrare? No Steff Allora Ma devo parlare Mamma mia Con quel cosa secondo te Ma davvero? Ci provo? Secondo te dice qualcosa di comprensibile Steff Aspetta Aspetta Ma guarda che è venuto a farci visita Due inutili umani Har 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 Vi siete persi? Volete tornare a casa? Sì Facciamo un patto Voi ci aiutate nella guerra E io vi farò tornare nel vostro mondo Che ne dite? Non vedo altre alternative Che tipo di patto? Nulla di troppo complesso Har 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 Se dimostrerete di avere la stoffa Avrete salva la vita E potrete tornare a casa Altrimenti questa sarà la prima E ultima volta Che ci vedremo Har 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 Ormai gli angeli Ci stanno portando Sull'orlo dell'estinzione Continuano ad ucciderci Senza motivazione Ne hanno tanti di motivi Abbiamo anche emanato Il nostro guerriero Più potente del paradiso Per fare giustizia Ma è sparito pure lui Ops Penso che abbia fallito Nel suo incarico Ops Portate 15 anima ed angelo Nel pozzo dell'inferno Se volete avere salva la vita Ci serve un'arma Non vi preoccupate Gli angeli le chiamano benedizioni Noi maledizioni Vi sto per offrire la mia Sarete in grado Di infliggere danni critici Agli angeli Ma anche loro Vi infliggeranno danni critici Buona fortuna Ve ne servirà Har 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 Ok Ok Tutto chiaro Più o meno Però scusa Steph Ho una domanda molto importante Prima abbiamo aiutato Gli angeli A sconfiggere i demoni Adesso stiamo aiutando I demoni A sconfiggere gli angeli E paradiso contro inferno Fere Eh però Ognuno mi sembra Che abbia le sue buone motivazioni No Sinceramente non mi sembra Che l'inferno abbia buone motivazioni Ma no Steph Scusa Poverini Stanno sterminati Mi rifiuto di vivere in sto posto Quindi facciamo quello che ci ha detto Har 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 Ma Steph non abbiamo un'arma Steph Fere non l'hai ascoltato Ha detto che ci ha conferito Un potere incredibile Eh lo so Ma io volevo un'arma Per fare un po' di scena Ma poveri angeli Non lo so Mi stanno vedendo i stessi di colpo Fere tu sei voluta venire in sto postaggio Ma che vuoi Dovevamo scegliere entrambi Vabbè No Ormai ci siamo Ormai ci siamo Facciamo le persone imparziali Facciamo solo quello che ci dicono E via Eccoli qui Provato Ok Ce li abbiamo Perfetto Ci rivediamo al pozzo Sì arrivo Stai arrivarci vero Sì Sicura Sì Ok Allora devo stare attento Perché sto angelo mi vuole Palesemente attaccare Mi tocca stenderlo Anche se non ci serviva più E Dovremmo andare qua E il pozzo è questo Perché l'ho visto prima Perfetto Io ci sono Fere Non lo trovo più Fere Mi dispiace Fere Vabbè inizia senza di me dai Sto arrivando Ma mi servono le tue Sto arrivando E vabbè Ma non le potevi prendere in più Ma io non ho parole Allora Signor diavolo Parliamo un attimo Io la butterei fuori dall'inferno Solo per questa cosa Cioè È imbarazzante Si è persa Si è fatta uccidere Fere Fere c'è un problema Che vuoi Non ho più E non ho dato l'essente Ma è arrivato qualcuno Come è arrivato qualcuno E si chiama tipo Lamento d'angelo Ma cosa vuole Questo lamento d'angelo No 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 Aspetta che io butto questo Mentre almeno non sei Vai vai Magari bastano Fregatene Cosa facciamo Non lo so Ma come facciamo No siamo fortissimi Vai picchia Picchia siamo fortissimi Sì sì Peccato che c'ho fame Eh vabbè Che ti devo dire Ok ok Me la sto gestendo No fa malissimo Oltre che me la so gestendo Fere aiuto Volevo avere un'arma Però non mi piace Combattere così Tu hai scelto l'inferno È un postaggio Davvero Lo sapevamo tutti Non è te A quanto pare Porca miseria Se fai male Ok Allora con calma Non riesco più a correre Con calma Un colpo No 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 Mi scusi Arrivederci Ma non c'è Lo sapevo guarda Lo sapevo Ma perché io ascolto Controlla se c'è qualcosa Nella casa del genere Ci sono le mele d'oro Fere Ecco prendile Prendile Eh no davvero Le lascio qui guarda Muoviti muoviti Stef ne serve uno anche a me Perché sono cischiatto Porca miseria Non riesce ad entrare in casa Eh no Sta camperando di fronte a casa Arrivo Dove sei? Qui Stef girati Ok Butta 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 Ok vai 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 Aiuto sta arrivando Prima di me le prende Vieni qua adesso Maledetto Pim 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 Guarda mi vendico di tutti Le sperle Arrivo Una fregatura Guarda sia il paradiso Che l'inferno Mannaggia Ce l'abbiamo fatta? Ma poi quanto era brutto Mamma mia sarà brutto C'era proprio inquietante E anche gli angeli Quando si arrabbiano Non è che scherzo Era inquietantissimo Mamma mia Ma anche questo inquietantissimo Guarda come ci segue Noi ce ne andiamo Siete a posto Abbiamo fatto tutto Tutto a posto Har 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 Sì Ok Arrivederci Arrivederci A mai più Arrivederci Ciao Ah finalmente Fuori fuori Via 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 Non ne voglio più sapere nulla Guarda Mamma mia Che giornata Un portale peggio dell'altro Sinceramente non so cosa sia stato peggio Perché anche il paradiso Non è che sia stato così semplice E carino Da affrontare Almeno l'inferno ci ha lasciato Le mele d'oro Eh E c'ho pure Guarda Bellissimo Questo è per ricordare La nostra avventura Ah sì L'albero dell'inferno Bello Molto bello Magari diventerà un villaggio Infernale O qualcosa del genere Chissà Comunque Noi ci fermiamo così Speriamo che vi sia Piaciuto questo video Ma no Sinceramente Proprio per nulla Sotto come sempre come altri video Iscrivete il canale Ciao ciao